Oggi sono state liberate due coppie di cicogne, da parte di un programma di liberazione che verrà fatto anche le prossime settimane, più altre cicogne che vengono liberate in situazioni diverse da quella di oggi. In pratica viene lasciata la gabbia aperta, poi loro se ne vanno quando vogliono. Sono coppie che si sono scelte loro in voliera, non hanno ancora le uova, stanno costruendo il nido, presumibilmente rimarranno insieme e costruiranno i nidi o sugli alberi, sui grandi alberi del bosco, qua intorno, ce ne sono già diversi di altre cicogne, oppure anche sulle piattaforme che sono state predisposte per loro. Le cicogne cicogne rimangono in voliera per alcuni anni, loro sono pronte alla riproduzione all'età di 3, 4, 5 anni, quando poi sono pronte alla riproduzione vengono rilasciate. Basta girarsi qua intorno, si vedono cicogne un po' dappertutto, sono cicogne, alcune che sono rimaste qua anche tutto l'inverno, altre sono cicogne che sono in questo momento in transito e che alcune si fermano, alcune poi proseguono per il nord Europa, altre sono cicogne provenienti dal centro e tutti insieme creano una situazione molto diversa dal passato, quando vedevi una cicogna tutti ti telefonavano, abbiamo visto una cicogna, adesso è normale vedere cicogne in volo, adesso ne abbiamo viste diverse che volteggiavano, ma ormai è diventata una specie comune nel parco del Mincio. Poi ci sono i periodi migratori dove alle cicogne già presenti si aggiungono cicogne che, data la situazione qua intorno, che è ideale come dicevo per la cicogne, si fermano e quindi trovi dei numeri di molte decine di cicogne, questo è il periodo migratorio per cui se ne possono vedere di più. Le cicogne evocano la nascita e quindi inizia la bella stagione con le cicogne che portano la lieta notizia perché si dice che portino i bambini e quindi le cicogne sono senz'altro un testimone all'importante per il parco e per tutti perché danno un segno di libertà ed unione dei popoli visto che migrano in Africa e vengono poi in Italia, per cui è un bel segno per il parco come elemento e come emblema di Mantua nel mondo. Oggi il parco da un punto di vista tecnico sta bene, le difficoltà del parco stanno nel mantenimento di alcune aree che sono importanti, le cosiddette valli del Mincio perché purtroppo gli affluenti portano elementi che vanno ad appesantire la già difficile flora e fauna delle acque del Mincio e quindi ci sarebbe necessità di un intervento forte, di un interesse di Regione Lombardia in modo particolare perché coordini tutti gli enti che sono per lo più regionali per fare un'azione comune perché questo parco e le acque del parco diventino sono acque che servano all'agricoltura e servono in generale per tutta la comunità.